Sì, sono il Cavaliere di Ripafratta. Preciso subito che io le donne non le ho mai amate, non le ho mai stimate. Anzi, ho sempre creduto che per gli uomini la donna sia un'infermità insopportabile. Hanno cercato di farmi sposare, ma io non ho voluto. Cari uomini, ascoltatemi bene, le donne cercano di annientarci nel nostro amor proprio o cercano di usarci per realizzare qualche loro crudele piano che anche il diavolo potrebbe imparare da loro. Voi potrete avere ancora dei dubbi, ma io no. Però, arrivato ai miei 40 anni, so ben riconoscere le femmine bugiarde e i loro tranelli. Quelle che fingono di amarti, come mia madre non mi ha mai amato. anzi, mi ha fatto crescere solo e nella convinzione che un uomo può risolversi e amare se stesso, senza doversi impelagare in tante rotture di scatole.